Ciao a tutti, siamo nell'atrio centrale di Costa Deliziosa, ho con me René Ludè e Adam Melini, loro sono due grandissimi artisti, io sono più alto di Luvia però, io sono più alto. Allora René lo conoscete tuttissimi perché è sempre con noi in crociera e Adam invece e ci dirà che cosa fa, pare che faccia di tutto. E tutto, approfumata giocogliere, qui tutto. Lui proviene dal circo, la sua famiglia, la famiglia Medini, famosissima in Italia come Cercensi e quindi noi avremo il piacere qua su Luminosa di seguire il loro spettacolo. René, che ho già avuto modo di conoscere tante volte ma soprattutto su Deliziosa, ci ha promesso degli scoop, un po' di storia del dietro le quinte della nave. Esattamente quello che ha scritto. Il retro del teatro. Brava, esattamente. Anzi, loro adesso sai cosa faranno? Un giorno mi inviteranno dietro le quinte del teatro, così farò le foto e ve le potrò mandare. Un carissimo saluto a tutti, ma prima vi faccio salutare Adolfo, Santina e tutti. Eccoli qua. Benissimo. Vi mando in diretta. Adolfo saluta tantissimo Fiorenzo e Adriana. Ciao a tutti. A presto ragazzi. Scusate se sono incrociato.